Bracciali, collane ed orecchini, ma anche giocattoli ed apparecchi elettronici, tutti contraffatti o comunque non conformi alle norme del codice del consumo e alle specifiche normative di settore. Le fiamme gialle hanno così sequestrato e ritirato dal mercato 3600 prodotti, eliminando così anche il pericolo che ignari consumatori, magari in tenere età, potessero subire il rischio di danni alla salute. I finanzieri della tenenza di Sansepolcro, coordinati dal gruppo della Guardia di Finanza di Arezzo nel periodo festivo, hanno infatti intensificato i controlli per contrastare la diffusione di questi prodotti. Nel corso di alcuni accertamenti in tre attività commerciali della Valtiverina sono state così riscontrate alcune irregolarità. I finanzieri hanno passato al setaccio gli scaffali dei tre negozi e si sono imbattuti in diversi articoli di bigiotteria in metallo, giocattoli ed apparecchi elettronici non conformi. Si tratta di prodotti sprovvisti degli adeguati contenuti informativi obbligatori ai fini della conformità e della sicurezza, come la denominazione, i dati del soggetto responsabile dell'immissione in commercio, il paese di origine, le istruzioni, precauzioni e le destinazioni d'uso. Alla fine sono così stati sequestrati e ritirati dal mercato circa 3600 prodotti. I tre titolari sono stati invece segnalati alla Camera di Commercio di Arezzo Siena per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice del consumo che prevede conseguenze anche molto pesanti. La misura della sanzione va infatti da 516 a 25.823 euro da calibrare in relazione al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità che vengono messe in vendita.